ciao oggi ci troviamo a vercurago in provincia di letto per un'escursione semplice al castello dell'innominato per poi proseguire a camposecco abbiamo parcheggiato la macchina sul lungo lago di vercurago e da qui inizia il nostro tragitto grazie a tutti 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 dopo 35 minuti siamo arrivati al castello dell'innominato grazie a tutti 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 secco Alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.